e siamo giunti al momento clou di questa serata doppio chilometro in aggiunto mi scuso per primo dicevo compagni di paddock ma uno è targato gara la femmina di vincenzo l'altro è targato par quello di di nardo quindi non sono compagni di paddock sono in venti steven del ronco ottimo secondo nell'ultima tris lui è il più gettonato otto in primo otto in secondo quattro in terza fila doppio chilometro per questa tris quarta e quinta allineamento completato ed è anche più che buono via la macchina si lotta con tapiro pireus alle prese a largo negus tre cavalli si giocano e birilli insiste negus e sta passando su pireus e tapiro e così scende il buon prezzemolino con il suo oggetto e va al comando lancio in quattordici e due e così negus a comandare l'operation a largo viaggia tapiro di dentro pireus punta in avanti il tapiro quattrocento in ventinove e due e sta passando il mancino di cristofaro a largo dei primi vediamo subito testi gv con lo verde e ora pireus rimane scoperto e punta in avanti 600 in 44 e due viene a chiedere strada sarà un freeway con un po di spesa ma il caff di raff e al comando e così raff con il suo caff leader gli va dopo 800 mezzo miglio se ne va in 59 7 risale bene sheridan nella scia di testi gv e viene via anche il numero uno di nasdaq dalla coda tenta la risalita steven del ronco ma troverà molto traffico 14 e mezzo sul mio il chilometro il primo ora pireus amministra i birilli e conduce liberamente risalgono i ritardatari ma troveranno terze e quarte ruote mezzo miglio alla conclusione 15 8 impiegata e di fronte una steven va in carburation e viene via deciso intanto pireus è al comando sposta nasdaq vediamo un po la frazione di fronte notevoli in 15 un po di spiccioli e steven a largo di tutti cerca l'aggancio dei primi viene via steven del ronco e va sui primi pireus sembra ancora controllare poi di dentro vediamo gli altri avversari miglio in due minuti e di dentro è sheridan ora steven mette il turbo va sui primi insiste steven ma pireus allunga ancora un po di stilla di sudore per pireus steven ci prova ci prova steven a largo interviene il 18 slide sepada di dentro va sheridan i cavalli sono i gioiai ragazzi il ragionier gallucci con slide sepada batte sheridan terzo steven del ronco io sono due ventinove un po di spiccioli uno quattordici e quattro quindi diciotto alla prima quattordici al secondo disassette al terzo ecco facciamo le immagini al quarto vedete un po le immagini il cinque e al quinto il numero undici questo dovrebbe intanto c'è i fuochi che hanno sparato sarà qualche fans del ragionier gallucci che ha messo su una bella botta e così in premiazione ora al microfono delle redini lunghe di emilio migliaccio è una bella targa al ragioniere che se ne è guadagnata tutto è tutto per il momento chiaramente attendete l'ordinario ufficiale saluti a edi a pia francesco che mi hanno fatto compagnia tutti i pomeriggio gigi che finalmente ha preso un multiplo felice e contento con sceridan e ad emilio sempre ottimo compagno di viaggio a domenica belle corse non mancate saluti a tutti buonasera grazie a tutti